Non sei nemmeno riuscito a salvare tuo figlio. Sei nullità. Vai, Echil, niente! Padre di nessuno! Ma col tuo nessuno! Che l'Occulto ti accolga! Il Signore della Duat ti attende. Nu volto. Tu e per il nuovo avut. L'Occulto di Dio è finito. Grazie a tutti. Ben fatto, amico mio. Il nostro eroe è tornato. Ci hai ridato la gioia. Devo andare ad Alessandria. Devo incontrare Aya. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Siwa ha sempre bisogno del suo Megiai. Ma sei tu il guardiano qui ora. Sarò felice di aiutare. Vieni a trovarmi quando sarai pronto a partire. Ci faremo una birra in nome dell'amicizia, eh? Vieni a trovarmi. Vieni a trovarmi. Vieni a trovarmi. Vieni a trovarmi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.